L'argomento affrontato dai due Rotary Club della Valtiberina Toscana e della Sponda Umbra è di quelli molto attuali, importanti, interessanti e complicati, ovvero l'intelligenza artificiale applicata praticamente al mondo del lavoro. Il titolo dell'iniziativa è tra presente e futuro, ha coinvolto anche le scuole Marco Rondoni, presidente del Rotary Club Piero della Francesca di Sansepolcro. Sì, abbiamo voluto affrontare questo che sembra essere l'argomento del momento perché ha dei riflessi importanti, la domanda che ci siamo fatti è un po' un algoritmo essere così artefici del futuro dei nostri giovani e per questo abbiamo pensato che parlare di intelligenza artificiale, degli strumenti dell'intelligenza artificiale, delle opportunità che offre nel mondo del lavoro potesse essere un argomento di interesse soprattutto per i giovani che nel mondo del lavoro si stanno affacciando, un mondo del lavoro che sarà completamente diverso rispetto a quello che conosciamo ora con professioni che saranno completamente trasformate e con la nascita di professioni nuove che ancora oggi noi non conosciamo perché non conosciamo probabilmente tutte le potenzialità e le possibilità dell'intelligenza artificiale. Grazie. Grazie. Grazie.